La luce e le ombre di Caravaggio naturalmente, perché non è solo il pittore della luce, ma proprio di questi violenti contrasti luminosi, di questi chiari scuri molto accentuati. Questi sono tutti pittori che sono rimasti colpiti dalle novità e dalla modernità della pittura introdotta da Caravaggio, artisti tutti attivi nell'Italia centro-meridionale, da Roma in giù, di varia provenienza. Per esempio il quadro che abbiamo qui alle spalle è questa grande tela con la negazione di Pietro, di Valentin de Boulogne, lo dice il nome, un artista francese arrivato a Roma e rimasto abbagliato. Maria Cristina Bandera, proprio la curatrice e direttrice scientifica della Fondazione Longhi, attraverso luci ed ombre caravaggesche ci ha fatto immergere immediatamente in questa mostra presentata dalla Fondazione Sicilia a Villa Zito, che da domani e fino al 10 giugno 2018 darà la possibilità a tutti i palermitani di poter vedere le opere dei pittori che hanno operato nell'Italia centro-meridionale nel 600 e nel primo 700. Da Giuseppe de Ribera a Luca Giordano, tutti influenzati dalla grande scuola di Caravaggio, tutti come il più grande studioso di Caravaggio, Roberto Longhi. Non era conosciuto, era uno dei meno conosciuti perché, come dire, si sa il gusto cambia, mentre adesso Caravaggio, e questo Longhi lo ha individuato subito, che non era l'ultimo pittore del Rinascimento ma il primo dei moderni, quindi ha aperto questa nuova strada ed è una sensibilità, come dire, anche vicino alla nostra, per cui il grande successo delle mostre con le opere di Caravaggio, anche a Milano, con un numero di visitatori strepitoso, quindi questa sensibilità che ci avvicina. Prima c'era un altro gusto, quello che gli storici dell'arte chiamavano il gusto bere, con i quadri Fondoro, quindi c'era un altro interesse per la pittura e per la storia dell'arte.